Ragazzi, mi dispiace, l'INFINITY finisce qui. NOOOOO! Perché LUG è LUG! 4370! LUG, ma perché sei così nato? Ma cosa oggi? Cosa c'hai? Niente, l'INFINITY, io... L'INFINITY? La serie del mio canale, quella che c'ho... L'INFINITY, quello che hai caricato nel canale. L'ho stoppato. Perché? Ma hanno rotto il cazzo, Chip. Che è successo? Puttanae, ma tu sai che è il server, no? Si. Non ce l'ha con il mio hosting, ce l'ha con altre persone che non faccio i nomi. Si, si, conosco, conosco. Che schifo puoi a fare i nomi. Niente, ho chiesto più volte di mettermi la mappa su un altro server, e non me l'hanno fatto. Ogni volta domani, 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 domani è stata una pona di minchia. E adesso? Alla fine, quando io entro nel server per registrare, automaticamente vengo addossato. Magicamente, automaticamente, automatico, almeno c'è la macchina è automatica, c'è qualcos'altro è automatico. No, magicamente vengo addossato. Ma così da nulla? Niente, io ogni volta che registro un episodio dell'INFINITY, devo... Ah, spendere il modem, che cazzo ti urdo? Spendere il modem, riaccendere il modem, cambiare l'IP. Per che cosa? Per un video del cazzo. Eh, minchia, una volta, due, sono 130 episodi, Chip. Minchia, cavolo. La mappa non me la tolgono, la mappa non me la mettono su un altro server. Il locale non posso. Eh, no, perché è tanto delarga. Perché il PC non me lo legge. Eh, infatti. La mappa è troppo potente. Eh, basta, la stoppa. Lo dico, stoppa la serie, vaffanculo, inizio altre nuove, non è quello il problema. Però non girano i coglioni. Eh beh, direi. Non girano i coglioni perché per colpa di questi quattro deficienti di merda, che stanno solamente fare i pagliacci davanti al PC. Sì, lo hacker, lo hacker dei bontani. Beh, non c'è tanto quella serie. Beh, ma oggi mi fa freddo, sì. Ma oggi mi fa freddo, sì, frescolino. No, ma il problema è che adesso non so che cazzo... Vabbè, diciamogli, ragazzi, mi dispiace l'Infinity, finisce qui. Eh, 120 qualcosa episodi, mi dispiace, inizierò nuove serie per cui continuate a seguirmi e se riuscirò a scaricare la mappa, magari farò un video nell'ultimo episodio, farò altri video, non lo so. Il problema è riuscire a scaricare la mappa senza essere addossato, per chi non sa cosa sia un di coso lì. Ora a vedere Wikipedia, se no contatti l'assistenza tecnica di Vodafone, lo vedrà, cioè non lo so, anche la Samsung ha fatto... Vabbè, comunque l'Infinity finisce qui. Io mi dispiace, insultatemi, fate quello che cazzo che volete, l'Infinity finisce qui. A parte non facevo manco chissà quali visite, per cui non è che dovrei stare qua a preoccuparmi. Mi preoccupo, perché mi girano i coglioni, perché era una serie a cui io ci tenevo. Ho perso tanto tempo, tante ore, tanta fatica, tanto, 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 perché sono cento e pass episodi, e cento e pass episodi non sono pochi in un canale, eh, perché sono cento e pass episodi, uno, due, tre, quattro, cinque, set, sono cento, cento e passa. Ragazzi, alla fine ho scoperto che l'Infinity, alla fine non è così Infinity, è Finity, è Finito. Cioè, secondo me dovevo cambiare il nome al pacchetto da Infinity, chiamarla Finite e basta. È inutile che continui, che c'entrano gli episodi, poi si tolgono la mappa... No, per gli scherzi, vi racconto questa cosa, non c'entra un cazzo game hosting, perché io da deficiente non ho messo questo, non ho fatto stare questa mappa, questo server, questo... Questa serie non è stata stata da game hosting, è stata stata da due ragazzi, che non faccio nomi, al quale uno dei due ragazzi mi dossano ogni qual volta io entro nel server che prendono l'IP. Luke, scaricati la mappa! E come cazzo non la scarico la mappa se il server non è mio? Luke! Quello cazzo non la metto, non ho altri server, e... Sinceramente ragazzi, per finirla qui. Mi sono stati fatti anche altre proposte, però non mi interessa, la finiamo qui. Comincerò tante altre serie, tipo... Se vengono i tipicchi, e... No, non è una serie, passa, guarda, sembra che ci ho scritto Giocondo in faccia. Potete non ballare sulla macchina? Ehi! E lanciamo la cosa da me adesso? Occhio alla macchina! Ragazzi comunque questo era un vlog veloce al parco, ci siamo fermati in un parco in macchina, vediamo pure tornare a casa. Sono con Chip e Danny che tiene la GoPro. Ciao ragazzi! Questo video appunto è fatto con la GoPro, per cui se vedete la deformazione strana del corpo, GoPro mi deforma, vedete? Chip sembra più magro del suo, vedi qua Chip, vai! Diccio! In un figurino! C'è un piccolino! C'è un piccolino! C'è un piccolino! Settembre! Ottobre! Novembre! Dicembre! Ragazzi! Mi copro perché ho sentito che qui a Milano sta arrivando l'invasione dei pinguini! Fa freddo! Ragazzi! Veramente! Stay Tuned! Che vuol dire? Lo dicono tanto! Vabbè! Stay Tuned! Stay Unit! Usa! E getta! Così! Mi raccomando! Passa la moto! Mi raccomando ragazzi! Fate gli scherzi! Questo è un vlog! Velocissimo! Sarà un vlog di merda! Mettete dislike! Mettete like! Mettete like! Quello che volete! Non mi interessa! Pollice! Così! 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 C'era il cerumone dentro! C'era il cerumone! Sì! Ragazzi! Veramente! Questo era un vlog al parco! Velocemente! Per annunciarvi che arriveranno tanti altri vlog! Se volete! Altri vlog! Sfogo! Vlog dove parliamo di cose serie! Vlog il cazzeggio! Dove picchiamo qualcuno! Qualsiasi vlog! Basta chiedere! Basta chiedere! Che arrivano! Arrivano! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Perché sei! C'è una canzone che dice! Ma c'è qualcosa di grande tra di noi! Non vorrei che fosse il suo! Mi allontano io! Porca miseria! Vabbè ragazzi! Veramente! Buona giornata! Buona serata! Vi ricordo in live! È vero ragazzi! Stasera! In live! Prendo la panchina tra la mani! Lancigliela! La prendi! Vieni! 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 Vi hai detto! Vi ho detto! Gli ho detto! Occhio! Ragazzi! Un bacio e un abbraccio! Da Luke! E Cip! Ciuffo, ribelle e tutto! Ciao a tutti! A tutti! Quasi! Minchanno rotta! Grazie per la visione!